Un volume rilegato che contiene lo strumento di programmazione trasversale del territorio di Foggia, finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità. E' il piano di salute della città di Foggia, una sorta di piano di intenti più che di interventi, la cui pubblicazione potrà contribuire ad aumentare la coscienza civica e la disponibilità a modificare abitudini e comportamenti dei cittadini. La redazione del piano di salute è il frutto di un percorso durato un anno e ha coinvolto tutti i settori del comune di Foggia. Ecco gli intenti previsti. Per quel che riguarda l'ambiente verrà realizzata un'analisi delle risorse idriche e monitorata l'Alga Rossa, che è presente nell'invaso di Occhito e che lo scorso anno aveva creato allarmismo. Nel piano si parla di immigrazione e caporalato, fenomeni quanto mai attuali. Fra gli interventi da attuare c'è sicuramente l'attivazione dell'osservatorio regionale per l'economia sommersa, ma anche l'istituzione di un tavolo comune per la realizzazione di strumenti di controllo dell'intera filiera produttiva. Verrà monitorato anche il fenomeno della dispersione scolastica con la costituzione di una banca dati sul fenomeno degli insuccessi e dei successi per essere in grado di evitare che il fenomeno sfugga. Il traffico e la razionalizzazione dei parcheggi nel capoluogo Dauno fanno parte di un apposito capitolo del piano di salute, così come le campagne di sensibilizzazione per l'abuso dell'alcol e l'uso di casco e cinture di sicurezza.